Una settimana fa la festa a casa di Belenna. Cecilia ce la raccontava ma non ci poteva dire che cosa si festeggiasse. Adesso si viene a sapere che il padre, Gustavo, e il fratello, Jeremias, parteciperanno all'isola dei famosi. Ma no! Ma no! Vi faremo sapere tutto dopo, non possiamo. La cognata piange, gente che si abbraccia, gente che si ama, gente che beve, gente che mangia, gente che si ama ancora. Ai ai ai, mi sta venendo! E ti avete! Appena posso vi racconto tutto, ma ancora ancora non possiamo. Auguri! Parteciperanno in coppia padre e figlio e saranno un solo concorrente. Anche loro all'isola dei famosi, come Belenna e come Cecilia.